Che stai facendo? Lavoro. Che cosa cerchi? Loro. Hai uno scopo? Credo. Dove ti trovi? In Italia. E come vivi? Suono. Di dove sei? Toscano. Qual è il tuo aspetto? Meno sereno di un tempo? Ma non per questo stanco. A cosa pensi? Al deserto. Qual è il tuo impegno? Immenso. Ed il tuo tempo? Denso. Che risultati hai? Alti e bassi. Che risultati hai? Alti e bassi. Rido di me, di te e di tutto ciò che di portale c'è. E che mi piace tanto, 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 tanto.